Se è vero ciò che noi e altri, cerchio Ifior dall'uno all'uno attraverso Tullia e Gian, Shifo. Come potrebbe d'altra parte qualcosa che succede all'uomo essere contro natura? Sarebbe illogico e cozzerebbe contro l'idea di un Dio perfetto e assoluto in ogni sua manifestazione. Basta per portare elementi a favore che voi pensiate a tutte le vostre vite precedenti. Se è vero ciò che noi e altri abbiamo sempre affermato, voi siete stati a volte maschi, a volte femmine, ed entrambe le esperienze hanno concorso a formarvi come attualmente siete. Passate mascolinità e passate femminilità sono state la causa di quell'effetto che voi siete oggi. Allora ditemi, per quale motivo scandalizzarsi o meravigliarsi o restare traumatizzati se si scopre in se stessi o negli altri delle tendenze omosessuali? Non esiste ragione per ritenerle contro natura, perché fanno parte della vostra natura e anch'esse possono essere una manifestazione d'amore in quanto, non dimenticatelo, l'amore non può avere sesso, altrimenti scandalo, scandalo. Dovreste ammettere che spesso l'amore che ritenete di nutrire per i genitori o per i figli maschera degli impulsi sessuali, cosa già affermata da certe correnti di pensiero, ma non proprio ben accetta dalla massa. O meglio, ben accetta se la teoria è rivolta agli altri, ma rifiutata, come certamente assurda, se rivolta a se stessi. Per non allargare troppo il discorso e darvi spazio di discussione, lascio a voi il compito di proseguire quest'analisi. Potete anche aver ragione in parte, ma io sono sicuro ad esempio di amare davvero i miei figli, così come amo tutti i bambini in generale, potrebbe obiettare qualcuno di voi. Se voi affermate, non saprò amare gli adulti, ma amo certo i bambini, per noi non c'è via di scampo. Ciò è indice che non possedete l'amore vero perché, ve lo ricordiamo ancora una volta, l'amore vero non può amare per categorie o operare delle preferenze. In quanto al vostro amore per i vostri figli, quale poca cosa si dimostra solitamente a un'analisi più accurata, obiettiva e spietata. Pensate, amate i vostri figli allo stesso modo sempre o vi sono dei momenti in cui li amate di più? Perché vedete, se ci sono dei momenti in cui voi li amate di più, ciò vuol dire che non li amate davvero e che la sensazione di amarli di più è relativa e nasce dal vostro io che si sente più appagato o più esaltato da qualcosa che hanno detto o fatto i vostri figli in quella circostanza.